E allora iniziamo la nostra visita guidata, chiamiamola così, all'interno del presepe vivente di Mottola. Ci farà da Cicerone il direttore artistico, l'organizzatore Pietro Palagiano. Iniziamo questo percorso. Intanto qui stiamo riproducendo gli antichi mestieri e quindi il fornaio innanzitutto. Con del pane, pane preparato in tutte le proprie specialità, la ricotta forte e anche il peperoncino che con un bel bicchiere di vino vanno a nozze proprio. Notiamo le caratteristiche, la riproduzione fedele, perché questo era un antichissimo pozzo che viene riutilizzato. È tutto vero, naturale dice giustamente. Ed entriamo in una grotta, siamo all'ingresso della grotta, la maggior parte del percorso è all'interno delle grotte, la maggior parte del percorso. Quindi questa è la prima grotta nel quale ci sono i primi figuranti, i vari mestieri. Guardate, un'atmosfera da favola, le ricamatrici. Si lavora signora? Sì, sì, è a tombolo. È lì, l'uncinetto. No, chiacchierino. 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 Chiacchierino.